Musica Niente più obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dopo 5 giorni di assenza. Il Consiglio regionale della Toscana approva una apposita legge illustrata in aula dalla Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Una legge afferma che parte da basi scientifiche che va nell'ottica della semplificazione delle procedure amministrative. La contagiosità di una malattia la scienza ormai ha evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi, non alla fine della sintomatologia. E quindi il certificato dopo 5 giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza dal punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a rieggiare le classi. Questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione delle diffusioni delle malattie. Quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza. Quindi per un principio di semplificazione, e dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica. E con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della Comunità Scientifica, dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Ovviamente, e l'ultima cosa, sono fatte salve le disposizioni che si devono attuare nell'ipotesi nella quale, come abbiamo visto per il Covid, purtroppo si diffondesse una malattia infettiva grave e pericolosa. In quel caso la disciplina vigente permette di rientrodurre certificazioni, di introdurre misure limitative della diffusione e la legge che noi abbiamo approvato non ostacolerebbe minimamente tali provvedimenti. Il nuovo provvedimento è stato approvato con voto unanime. Credo che sia in linea con il cambio della medicina, perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile, tanto è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza, io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia, che sono oberati in questo momento di carenza di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. Sì, con soddisfazione. Una storia che viene da lontano. Siamo all'inizio del 2020, ero all'epoca presidente della Commissione Sanità. L'organismo toscano del governo clinico diede un'indicazione di andare verso un processo di semplificazione. Poi sappiamo, c'è stato il Covid e quello che c'è stato. Oggi finalmente la Regione Toscana si adegua a una normativa di semplificazione. I bambini potranno tornare a scuola anche dopo cinque giorni di assenza, senza certificati medici e senza un aggravamento di carattere burocratico, ma essenzialmente amministrativo, che molte volte compete in questi casi ai pediatri. Quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo, delle funzioni mediche, che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di visita dei bambini. Qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano i livelli nazionali, pandemie, come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. Ovviamente nulla toglie, ovviamente c'è un impegno da parte dei medici e dei pediatri a visitare i bambini, ad essere ovviamente guariti. Non serve l'aggravamento di carattere burocratico. Questo può determinarsi anche per il semplice fatto che molte volte un'assenza non sia determinata peraltro da malattia, ma anche da altre fattispecie. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici, ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che, come è stato detto anche all'interno della Commissione, è obsoleto. Infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole, naturalmente in condizioni di salute ottimali e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare, ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli e per le famiglie, anche monogenitoriali o con poco supporto, era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Trasporto sanitario dei malati oncologici in Toscana. La nuova normativa sperimentale rischia di lasciare fuori dal servizio numerosi malati, dice l'opposizione, è il consigliere dei Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi, a sollevare la questione in aula. Il meccanismo di rivisitazione della certificazione medica, passando dallo scritto alla certificazione immateriale, ha generato però lo stop a cavallo di ottobre dei trasporti gratuiti per i malati oncologici che la Toscana aveva comunque sempre garantito nonostante questi trasporti non rientrino nei livelli essenziali di assistenza. Poi successivamente, seguendo le prime proteste nostre e delle associazioni, la Giunta è intervenuta a dicembre con un'ulteriore delibera nella quale ha individuato alcuni criteri che però sono assolutamente restrittivi. Avere una persona portatrice di handicap in famiglia, un ultra 75enne, non avere persone che ti possono portare una macchina propria, non avere un mezzo proprio per interventi addirittura da fare entro un raggio di 50 km. Evidentemente sono criteri eccessivamente restrittivi, per questo la maggioranza ci ha chiesto di fare un'analisi, visto e considerato che la delibera parla di sei mesi di sperimentazione. Noi abbiamo raccolto le tante proteste dei malati oncologici e delle famiglie, le tante proteste delle associazioni e quindi ci siamo dichiarati comunque disponibili ad andare in commissione da qui a una ventina di giorni per analizzare insieme alle associazioni e all'assessorato come stanno andando effettivamente le cose e a trovare le risorse anche attraverso un maggior coinvolgimento delle società della salute per risolvere il tema, perché il tema dei malati oncologici è un tema di civiltà. Come ho detto nel mio intervento, ovviamente ora si muore soltanto di infarto, di tumore e di incidente, ma mentre l'infarto purtroppo è un qualche cosa di immediato, il tumore è una morte annunciata, per cui si crea tutto un problema anche sulle famiglie e conseguentemente una problematica che va dalle problematiche di tipo morale alle problematiche di tipo economico e conseguentemente credo che la politica debba fare un passo in avanti per soddisfare certe esigenze affinché non si aumentino le problematiche che le famiglie in maniera investite così da questa tsunami debbono vivere. Da qui la decisione unanime del Consiglio di rinviare il tutto in Commissione Sanità, dove verranno audite le associazioni che fanno trasporto sanitario e i responsabili delle società della salute. Intanto è evidente che è stato corretto provare a riorganizzare e a dare una versione più corretta a tutto il sistema del trasporto sanitario distinguendolo da quello sociale. Ci sono degli effetti poi che sono negativi, noi l'abbiamo e la Giunta stessa l'ha riconosciuti, tant'è che il 27 dicembre ha assunto una deliberazione che permette comunque anche al di là del trasporto sanitario di coprire una parte di trasporto sociale. Dobbiamo capire se questa delibera sta portando gli effetti sperati, cioè coprire tutti coloro, riconoscere tutti coloro che hanno bisogno, in particolar modo il problema c'è per gli oncologici, ma non solo, il diritto ad essere trasportati. E poi questo sia sociale o sanitario o un cittadino, non gli importa, se ha bisogno, perché è solo, perché è in condizioni cliniche e critiche, è giusto che il sistema istituzionale gli riconosca il trasporto. Quindi, partendo anche da una mozione dell'opposizione, in Consiglio oggi è stato proposto, io ho ben accettato l'idea di fare un'audizione in commissione delle associazioni che fanno il trasporto, delle società della salute, i rappresentanti delle società della salute, dell'assessorato, per vedere se la delibera ha portato agli effetti sperati o se c'è da introdurre dei correttivi. Ma io sono assolutamente convinto che l'articolo 116, terzo coma della Costituzione, debba essere attuato attraverso intese, attraverso un ruolo del Parlamento importante, evitando che si arrivi all'autonomia differenziata creando maggiori squilibri fra nord e sud. Deve essere un modo più efficiente, con più servizi ai cittadini, per gestire all'interno di una regione competenze che la regione può gestire meglio dello Stato. Quindi io ritengo che debba essere molto migliorato, ha delle criticità evidenti, il decreto che vuole essere, diciamo così, la legge quadro presentata dal Ministro Calderoli, ma sui principi dell'autonomia differenziata io mi confronto perché ritengo che sia una strada da percorrere attraverso un forte ruolo delle regioni, migliora l'efficienza, i servizi, la proposizione dello Stato verso i cittadini. Così il Presidente della Regione, Eugenio Gianni, sul tema dell'autonomia differenziata. Sono convinto che sia giusto attuare i principi dell'autonomia, ma nel testo proposto dal Ministro Calderoli ci sono alcune criticità, dallo scarso ruolo del Parlamento ai livelli essenziali di prestazione. Poi, dice Gianni, non condivido l'identificazione di 23 materie, preferisco l'autonomia non su materie strutturate generali, ma su quelle che aiutano a leggere le specificità del territorio, nel caso della Toscana, ad esempio, geotermia, beni culturali, infrastrutture e informatica. Gianni, in aula, rispondeva a un'interrogazione presentata dal Consigliere della Lega, Marco Casucci. Come tutti i testi normativi, anche il disegno di legge Calderoli sarà sottoposto al vaglio del Parlamento, alla discussione, perché no, anche a eventuali possibili miglioramenti. Ma la Regione Toscana deve formulare al più presto una proposta concreta, altrimenti saranno soltanto parole. E credo che la Toscana possa gestire meglio che lo Stato centrale alcune materie in più rispetto a quelle che di fatto sono sempre state ipotizzate. Beni ambientali, geotermia e beni culturali. Noi diciamo anche altre materie, siamo pronti al confronto, ma la Regione Toscana deve fare veramente un'iniziativa meritevole della propria storia istituzionale. Abbiamo materie come l'università, come i rapporti internazionali e con l'Europa. Abbiamo materie che possono essere veramente oggetto di studio e di confronto, in più rispetto a quelle ipotizzate, come dicevo, dei beni ambientali e dei beni culturali. Noi siamo pronti al dialogo. Speriamo che il Presidente Gianni tenga questa linea e che faccia qualcosa di concreto. Lo chiedono numerosi cittadini toscani. L'autonomia è una ricchezza per tutto il Paese, non soltanto per le regioni del Nord. È una raccolta negli ultimi 30 anni circa di mostre e di fiere dell'arte. Quello che ho trovato poi in realtà in studio abbiamo deciso con Alessandro Romanini e Maria Possenti di fare un misto fra le cose toscane tipo Dante, tipo l'omaggio al Pontormo e poi quello che io di solito dipingo, cioè cinema, moda e eventi vari in generale. E quindi sono 27 quadri con questo tema. L'arte pop di Marco Saviozzi mostra nello spazio espositivo Carlo Azzaglio Ciampi di Palazzo del Pegaso 30 anni di lavori dell'artista lucchese raccolte nell'esposizione denominata Nostalgia del Futuro. Una efficace opera di sintesi, dice la critica d'arte Maria Possenti. Perché il procedimento che Saviozzi segue per riguadagnare alla pittura i soggetti che trae come dalla tradizione dell'arte pop in cui lui si inserisce dal flusso della comunicazione di massa è proprio quello di un'operazione di sintesi, cioè di esprimere il suo soggetto delineandone soltanto i caratteri essenziali e riconoscibili, quelli necessari e indispensabili per riconoscerlo ed eliminando tutto il resto, diciamo. Questo è quello che Saviozzi si propone di fare. Al taglio del nastro presente l'assessore regionale Stefano Baccelli e il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. La mostra di qualità Nostalgia del Futuro già dice molto. È una riproposizione in forme moderne, un po' anche di quella che è la nostra tradizione pittorica, la forza del colore, l'efficacia della linea. Mi piace molto, lo dico proprio con il cuore, è una mostra importante che ci trasmette anche la sensazione veramente del piacere di essere toscani. Grazie per la visione!